Sono le ore 10 e 55, Walter Lavitola, ex direttore dell'Avanti, è arrivato qui a Napoli nel carcere di Poggio Reale. Camicia blu, maioncino bianco, volto tirato. Oggi finisce la sua latitanza, iniziata il 14 ottobre scorso, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle ore 6 e 41. Polizia e guardia di finanza, dopo gli adempimenti per la notifica del provvedimento restrittivo, lo hanno condotto nel capoluogo Partenopeo. A Napoli l'ex direttore dell'Avanti è sotto inchiesta nell'ambito dell'indagine sui finanziamenti all'editoria e nei prossimi giorni dovrebbe essere ascoltato anche sull'indagine per gli appalti Finmeccanica. E questa mattina gli è stata notificata anche l'accusa contenuta in una nuova ordinanza di custodia di corruzione internazionale per presunte tangenti a politici panamensi per la realizzazione di carceri.